Questo per lei è anche l'ultimo San Gennaro da sindaco? Eh sì, penso di sì. Sì, devo dire ci pensavo durante la messa, il decimo è stato, abbiamo avuto momenti difficili, momenti belli è l'ultimo, insomma, dieci anni, non so se sono volati o sono stati lunghi, però se ne va un'epoca della mia vita chiaramente importante e sì, ci saranno tanti momenti in cui dirò questo è l'ultimo Natale da sindaco, sarà un'escalazione... Com'è? No, più è chiesto, io mi auguro che Napoli esca migliore, perché questa è una riflessione che in tanti, l'ha fatto anche il Cardinale saremo migliori o saremo peggiori? Lo stesso Papa ha detto non usciremo come primi o migliori o peggiori, questo sta ai napoletani, perché questa è la grande sfida io mi auguro che San Gennaro ci unisca molto come popolo e ci faccia uscire migliori nei prossimi mesi perché saranno mesi difficili, ma che Napoli e i napoletani ce la possono fare e secondo me ce la faranno.